Bene, per il momento cambiamo pagina, andiamo proprio nel bel mezzo dei vigneti dove a Susegana in queste ore si è svolta Vite in Campo, una iniziativa davvero molto molto particolare. Oltre 1500 visitatori, 15 ettari di superficie espositiva, 100 macchine al lavoro, sono solo alcuni dei numeri di Vite in Campo, la manifestazione dedicata all'innovazione in agricoltura organizzata da Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno ed edizione L'Informatore Agrario, ad ospitare la quinta edizione i filari dell'azienda Conte Collalto di Susegana. Oggi ci sono in campo oltre 100 macchine operatrici e questo è un incontro, è un confronto tra espositori stessi, tra costruttori dove effettivamente si confrontano anche tra di loro per evidenziare quelle che sono le tecnologie, le novità da presentare quest'anno per il controllo delle malerbe, per la distribuzione di agrofarmaci, per la riduzione di quella che noi chiamiamo sempre la chimica. Tant'è vero che la manifestazione è nata come manifestazione per ridurre il prodotto più meccanico, meno chimica. La resilienza della vite, oltre che la resilienza dell'impresa vitivinicola, è stato questo il filo conduttore che ha guidato il visitatore attraverso le diverse opportunità presenti a Susegana quest'anno, dalla corretta gestione della risorsa idrica alle tecniche culturali sostenibili, dall'ottimizzazione della protezione della vite dai patogeni all'automazione delle lavorazioni in vigneto, senza tralasciare il rispetto del suolo e della biodiversità ambientale. Entro il 2030 la comunità economica europea ci chiederà, ci obbligherà ad una riduzione drastica dell'uso di fitofarmaci, si parla di un 50%, ad una riduzione del 30% dei prodotti che usiamo come concimi. E quindi abbiamo un po' l'orgoglio di dire che Vite in campo, che già sta operando da almeno un decennio con queste nuove tecnologie, era già avanti nel vedere queste opportunità e queste necessità. Attenzione all'intero sistema produttivo, quindi tra le messe in campo anche la verifica della copertura dei trattamenti nelle piante e gli strumenti di biocontrollo. Questi strumenti sono degli agrofarmaci con una elevata compatibilità ambientale. Allora, siccome Vite in campo si caratterizza per essere la manifestazione della viticoltura sostenibile, quest'anno abbiamo aperto anche questa nuova categoria di prodotti. L'altra grande novità è invece la dimostrazione notturna di efficacia dei trattamenti, ovvero faremo dei trattamenti cosiddetti in bianco, cioè utilizzando acqua e un liquido fluorescente e verso le 22 quando si fa buio sarà possibile capire in base alla fluorescenza il livello di copertura della foglia operata dalle macchine che distribuiscono gli agrofarmaci.